della Concordia. Parla il magistrato che conduce l'inchiesta. Il comportamento di Schettino fu sconcertante. Le inviate Emma D'Aquino e grazie a grazie a dei. Oggi il relito della Concordia è così, appoggiato sempre su un fianco ma in parte arrugginito dall'acqua, dal tempo. C'è un mondo intorno, centinaia gli operai ingegneri che lavorano senza sosta giorno e notte. Una che ha più piani si è trasformata in albergo. Qui vivono gli americani della società che insieme a quella italiana sta preparando la nave alla rimozione. Una gru alta 65 metri trivella il fondo dove si appoggeranno le piattaforme che sosterranno la Concordia. Dopodiché, fatta questa operazione, inizierà in pratica la fase di rotazione. Da questo lato, diciamo lato terra, i sommozzatori stanno preparando 12 torrette da dove partono dei cavi che al momento della rotazione faranno sì che tratterranno il relitto e lo faranno ruotare con la giusta velocità e il giusto equilibrio. Questo è un lavoro da 400 milioni di dollari, molti di più rispetto alle previsioni. Alla fine, se tutto andrà bene, 15 cassoni faranno da salva gente e alla fine dell'estate la porteranno via. In questo paese la nave, dobbiamo essere sinceri, nonostante la tragedia e tutto quello che ha portato, ha portato anche lavoro soprattutto grazie a tutto l'indotto che c'è dietro. La targa che ricorda le vittime del naufragio è nascosta da un telo sul molo, pronta per essere svelata domenica durante la cerimonia in ricordo di quella tragedia. Ed è in chiesa, una parte dello scoglio è rimasto incagliato nella pancia della nave, lo riporterà in acqua chi quella notte salvò tanta gente quando il comandante era già scappato. Lo stoglio rappresenta la voglia di ritornare alla normalità, ancora adesso ricordo questi occhioni che piangevano lacrime senza gridare dalla paura. Lei è andato all'isola del Giglio dopo il naufragio, che ricordi ha di quelle ore? La prima cosa mi ha fatto molto impressione vedere questo gigante del mare adagiato sul lato, sullo scoglio e poi mi ricordo la confusione. L'atteggiamento molto strano di Schettino che ricordo che quando ho comunicato che sarebbe stato condotto in carcere. Lui rimase sorpreso di questa cosa perché mi chiese se poteva invece andare in albergo a mangiare qualcosa, una persona che sicuramente non si era reso conto, come io credo che ancora non si renda conto di quello che ha combinato, praticamente navigava a vista di notte su una nave di 300 metri a 16 nodi all'ora, come se fosse, come se lei fosse alla guida di una piccola barca, non ho parole, è veramente sconcertante l'atteggiamento e il comportamento del comandante Schettino. Voi state preparando le richieste di rinvio a giudizio che potrebbero riguardare solo 8 dei 12 indagati. Sì, il contributo causale è abbastanza marginale da parte di tutti gli altri componenti dell'equipaggio. È evidente che la responsabilità maggiore è quella del comandante Schettino.